allora buonasera voglio fare questo video per dire a tutti quelli che non si sanno mettere a tutti quelli lì vi faccio vedere come si indossa una bandana allora semplice cominciamo dalla bandana allora non c'è una laurea per poterla per poter imparare per poter imparare ad indossarsi basta semplicemente fare i tutorial guardia guardare ok il metodo che mi piace più a me questo metterla da bandito semplicemente metterla davanti al volto così guardate prima piego la mia bandana la piego la piegola a metà da formare proprio un triangolo che devo formare un triangolo così in questo modo forma il triangolo in questo modo poi semplice facendo i temi così davanti così e faccio il nodo dietro il nodo dietro volendo lo stanno anche parlo dubbio e gioca fatta mi sono indossata visite indossati la bandana come se fosse una maschera a gangster così e poi apriamo semplicemente invece come invece indossare un balaclava il balaclava più o meno è idente è uguale allo scaldacollo ma questo c'è anche il cappuccio sopra semplice ve lo mettete come se fosse uno scaldacollo però lo scaldacollo c'ha solo la parte del collo mentre il balaclava è tutto un pezzo c'è anche la parte di sopra basta semplice si indossa così ma se fosse uno scaldacollo così poi mette così la testate e poi semplice ma gestare gesta però così ecco qui fino a tenere questo risultato e ovviamente lascia solo scoperti gli occhi se volete proprio proprio fare un po per esempio i maschi per esempio se vogliono proprio fare un po una moda gangster sopra si possono anche mettersi un berretto un berretto con la visiera come questo sembra il cappuccio della felpa ecco qua semplice no che indice non è che ci vuole una una laurea per poter imparare a come indossarsene ciao alla prossima e poi mi sono dimenticato anche di dire un'altra cosa c'è da specificare questa cosa per esempio i maschi non ci mettono niente ad indossarselo perché ci hanno i capelli corti e non hanno nessun tipo di problema invece le femmine invece è un po più complicato perché loro devono anche sistemarsi i capelli per esempio ci sono per esempio che le ragazze quando si fanno si mettono la bandana in faccia loro per i cammini si devono fare il nodo non stare a tendere a non a non tirarsi i capelli e poi dopo ci sono altre che praticamente vogliono mettersi anche i capelli fuori così semplicemente le ragazze si devono praticamente studiare un po si devono pure sistemare i capelli e cosa invece i maschi i ragazzi non ci mettono niente ad indossarla una banda il gioco è fatto c'è direttamente i capelli corti poi stessa cosa pure con i balaclava le femmine le ragazze ci impiegano un po più tempo perché semplicemente semplicemente perché c'hanno proprio di capire tanti difetti perché non se non hanno voglia di indossarselo neanche per fare una foto perché sempre di fatto perché c'hanno i capelli sistemati sono truccati e cose invece i maschi i ragazzi non c'hanno di nessun tipo di questo problema se lo indossano senza problemi e basta nonostante che abbiano i capelli corti e la barba va bene questo volevo specificare ciao a tutti alla prossima